Si chiamano elezioni di metà mandato. Il mandato è quello del presidente chiamato a rendere conto del suo operato. In gioco è la maggioranza del congresso, ovvero se Joe Biden avrà i numeri per portare avanti la sua agenda. I democratici oggi hanno una risicatissima maggioranza al Senato e Kamala Harris, lago della bilancia, alla Camera hanno otto deputati in più. Uno nulla per i repubblicani per capovolgere gli equilibri. L'America che va a votare è preoccupata per l'economia, sull'ollo della recessione per l'inflazione, oltre l'8% per il presidente Biden, più di un motivo per temere una debacle. Le speranze per evitare un K.O. per i democratici sono legate alla famosa sentenza della Corte Suprema sull'aborto. Per loro il voto in novembre è una battaglia per difendere questo diritto. Le elezioni di metà mandato sono una bussola per le presidenziali, un test per Joe Biden, ma anche per Donald Trump onnipresente. ha dato il suo sostegno a oltre 200 candidati repubblicani, si vota un po' anche su di lui e inevitabilmente si capirà qualcosa in più sul 2024.